Non è stato un gesto sconsiderato quello di lasciare libero nel giardino di casa il pitone reale per attivare i suoi sensi e stimolare i suoi recettori, anzi è una pratica saggia e ben fatta per la salute dell'esemplare. È molto chiaro su questo aspetto il dottor Ridolfi, veterinario specializzato in esemplari esotici, che abbiamo contattato per saperne di più sull'esemplare smarrito dal suo proprietario venerdì scorso a Monteporzio. Anzi è stato saggio e coraggioso anche nel dire di averlo smarrito, perché questo aumenta la possibilità di ritrovarlo presto ed in salute. È timido, docile e mansueto e difficilmente attacca l'uomo, ma conosciamolo meglio questo esemplare esotico che può essere posseduto previ a denunce come altri animali domestici e cosa fare soprattutto in caso di avvistamento. È un serpente di origine africana, un serpente tropicale, un serpente quindi che ha bisogno dell'assistenza umana per poter sopravvivere in Italia. È un serpente questo che è molto lento, estremamente innocuo, non è velenoso, non deve essere confuso magari con una vipera. È possibile anche che questo serpente abbia trovato un rifugio perché ha abitudini fossori, la prima cosa che cerca generalmente è un nascondiglio. Se lo ritrovate però cosa fare e soprattutto cosa non fare? Non potrà mai superare il rigido inverno, quindi benvenga il ritrovamento per salvarlo. Cosa bisogna fare? Sicuramente bisogna, se si localizza, non va aggredito, va fotografato, va segnalato al proprietario e magari mandata anche una foto dell'esemplare attraverso i sistemi di comunicazione attuali, Whatsapp, insomma, in modo tale che il proprietario possa riconoscerlo e possa arrecarsi sul luogo a riprendere il suo animale. L'esemplare in questione non dovrebbe essersi allontanato di molto quindi, ma nel nostro habitat queste specie di rettili in natura non si trovano, a differenza invece di altre razze cosiddette autoctone. A Fanodo troviamo quattro serpenti, uno è questo che è il saitone, un serpente che può avere questa colorazione verdastra, può essere anche un po' più giallino, poi c'è il biacco che è il tipico serpente nero, che possiamo vedere che è tra i più frequenti serpenti italiani, poi ci sono due bisce d'acqua, sono un'atrice tassellata e un'atrice dal collare. Come vediamo le differenze sono molto palesi, nel senso che il pitonoreale ha un aspetto molto più goffo, un aspetto molto più tozzo rispetto alle nostre bisce che invece sono filiformi, sono molto più scattanti e molto più agili.